Buongiorno! Oggi è domenica 21 settembre, nuovo vlog e oggi vi faremo vedere il primo compleanno di Alessandro! Buongiorno! Che ha compiuto gli anni mercoledì, vi ringraziamo tutti per gli auguri. L'anno l'ha compiuto mercoledì e adesso stiamo andando a prendere la torta e a fare collezioni! Io sono vecchio, ho un anno. No, non filmarmi mamà! Papà? Ciao! Fai la faccia sexy! Dai, fai la faccia sexy! Fai la faccia sexy! Eccolo! Mi stai facendo la faccia sexy! Vale, fai la faccia sexy! Io devo guardare la mia mamma! Vale, a scollumbre! Aole! Aole! Muore! Fa un saluto! Fa faccia sexy! Fa faccia sexy! Eccolo! Vale, amore! io diventerò un insegnante di zumba adesso vi faccio vedere in anteprima la torta di Ale è una meringata con gli orsetti il numero uno la candelina, la rosellina e poi lì da parte mi ha lasciato anche la candelina da metterci deve essere buonissima ciao a tutti, io ho appena mangiato la pasta suita col pomodoro e adesso vi faccio la faccia sexy la faccia sexy ciao a tutti, ciao dov'è la faccia sexy? dai bebi che mi sono state imprestate e faccio la faccia sexy e faccio vedere i dentini, ne ho due, ben due vendesi i dentini ehi, ecco gli sorrisi, cosa vuoi? eccolo il mio tenerone ciao io faccio tanti capricci perché sono un bambino capriccioso chi è che apre i regali oggi? chi è che apre i regali? Sofia 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 Dagliela, sì, bravo Dagliela, Bu Ciao, Bu Tieni, Bu Tieni, Bu Dai, vai a prenderlo Indira Dai 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 Vai a prenderlo, no? Dai Dammi un biscotto Dai Dammi un biscotto Dai Dammi un biscotto Dai Dai Indira Dagli il biscotto Tu Daglielo Ma no, prenderlo in giro Dagli il biscotto Dai Alla settimana Ancina Di uti L'unico Di Ah No, adesso lo dai Ebu, olha, dov'è Ebu? Quando fa il riposino, il riposino, finché non arrivano tutti i nostri parenti Fra un po' iniziano ad arrivare tutti, intanto vi faccio vedere come abbiamo allestito Per ora, il cibo è di sopra ovviamente Ecco, l'indira ha già scoppiato 350 palloncini, come potete vedere Sto morendo ragazzi, sono agitatissima È il primo compleanno del mio bambino e lui sta dormendo Tra mezz'ora arrivano tutti, speriamo che si svegli la casa È un casino totale Però per fortuna siamo fuori, il che significa che se piove Siamo nella merda Perché non abbiamo un posto per mettere tutti i parenti Yeee Sì, ecco, questo è il mio nuovo taglio Che ormai ho fatto un mese fa Per chi mi segue su Instagram, l'ha già visto E su Facebook Per chi non mi segue nei vari social, lo vedete adesso? Sì, ho tagliato un pochino i capelli Capolino, ma fai le name? Amore Quanto bello è Quanto bello è il mio bambino Quanto ti amo, non amavo il papà Eh? Cosa fai con l'esia? Ciao ciao Mamma mia che rabbioso Che rabbioso Guarda che va a finire tutti sul web No grazie, non c'è birra E come sempre chi è in ritardo? Ah Ale 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 Chi è che è sempre in ritardo? Dove è il santo? Chi è che è sempre in ritardo? Io e la zia, sempre Sempre in ritardo Però sì No, no, no Ciao E dopo? Ciao Sorriso, quanti denti, tutti quanti? Tutti quanti? Molto bene Ti do' a comprare Molto bene Cosa mangi? Cosa mangi la pizza? La pappa buona di me A te che mangiamo panini fin adesso? Eh no Bene, adesso ne prendiamo un altro Va bene? Madonna quanti menti Eh no E questo è il gioco in giro Sembra rilasciato Quanto vado che l'ha impegnata Adesso dopo Adesso ne prendo un altro Ma dia voglio Mi piace quello Non sia buona Sarà Amore 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 Fotonastro No 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 Fai con Manuè! 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 Aspetta! Fotografa anche il fotografo! Basta! No! Ma fai il flash! Non lo vedo me a me! Sì! Posso mettere il prosecco? Poliziii! Beee! Sandro! Sandro! Potremmo portare a far caro nonno adesso? Caro nonno! Caro nonno, caro nonno! Sì! Ma di lingua! Sì! Sì, Sandro! Fa una caraccia nonno! Chissà come che mi porta a 18 anni e mi viene in marittima! Sì! Ma cosa c'è? 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 Eh? Eh! Eh! Caro! Saluto! Adesso vediamo! Che bella! Ecco qua! Ecco qua! Ecco qua! Ecco qua! Amore! Hai bevuto? Ahahahahahah! Ho bevuto? Hai bevuto amor? Ma suona che? Chi è che ha bevuto? Tu o la maglietta? Ahahahahah! Hai bevuto? Buongiorno, io sto giocando con il mio giochino nuovo Papà ha bevuto un po' troppo Questa sono le condizioni attuali, sono appena andati via tutti e il vlog è finito, ci vediamo Ci vediamo nel prossimo video, ciao Ci vediamo allo prossimo